Allora, ci troviamo qui, diciamo, nello spazio accanto alla chiesa madre, oggi domenica 3 settembre e vogliamo parlare con un personaggio molto noto di Mascaluccia, il nostro mitico Turi Pk che inquadreremo in una situazione particolare, infatti, nonostante sia col braccio ingessato lui sta lavorando molto, come dire, con molto spirito nella preparazione dei panini, bella salsicciata alla matrice Allora, Turi, cosa ci vuoi dire per questa serata? Che sta andando bene, una bella serata, ieri abbiamo passato una bella serata anche, spero che vada come ieri Turi, prima di tutto, che ti sei fatto a tutti? Niente, sono caduto da un peo, un albero di figo Un albero di figo, che ci facevi? Cascari per il figo, guarda Allora, un commento sulla serata di ieri e di oggi, anche se stai preparando Allora, noi lo facciamo solo per San Giuseppe e la matrice È una cosa fatta da noi, organizzata dall'Associazione di Mascia Lucia Vigione, vecchia matrice Vigione, vecchia matrice Allora, cosa stai preparando adesso? Sono i panini con la salsiccia Ok, come si svolge questa serata? A parte mangiare salsiccia? C'è una bella serata, c'è un po' di confusione, animazione, ci sono i sbandieratori Vedo che c'è una bella serata Va bene, e tu? A me ci mi ha sbagliato la salsiccia Vai i panini Facciamo giù in giro con le panini Va bene, allora, guardiamo intanto che cosa ci prepara questa bella cucina Vedete tutte le salsicce che sono in preparazione Salsicce è tutta buona Da questa parte abbiamo uno dei nostri amici che stanno, come dire, concludendo la preparazione A questo punto, cosa possiamo dire? Un saluto, facciamo un saluto generale per la serata Ciao Grazie a tutti! Grazie a tutti!